Quinto corso di base per specializzanti in neurochirurgia del primo, secondo, terzo anno e medici specialisti da non più di tre anni. Svolto secondo modalità tutt'altro che consuete attraverso relazioni sul tema e dimostrazioni live surgery, ma che per il limitato numero di partecipanti, il carattere del tutto informale, favorisce al massimo la interattività, la discussione e la socializzazione. Così come nello spirito e nella volontà del professor Massimo Scerrati, presidente del corso, docente dell'Università Politecnica delle Marche, direttore medico della Clinica di Neurochirurgia di Ancona. Dunque, questo è un appuntamento che è iniziato, se vogliamo dire, anche un po' in sordina qualche anno fa. Quest'anno è il quinto anno che noi proponiamo un progetto di stampo sostanzialmente educazionale, quindi formativo, in neurochirurgia, stabile qui nelle Marche finora, che riguarda in questo caso la chirurgia vertebrale, ma solitamente riusciamo a gestire due appuntamenti per anno, uno sulla chirurgia vertebrale e uno sulla chirurgia cranica. È il quinto anno che riusciamo a dare vita a questo tipo di iniziativa, che ha alcune caratteristiche peculiari. La prima viene organizzata attraverso l'invito di illustre personalità della neurochirurgia, con i quali abbiamo un rapporto di collaborazione e, se posso anche dire, di amicizia personale e che ben volentieri vengono ormai in maniera periodica nella nostra regione per scambiare informazioni e quindi cooperare con noi. In secondo luogo, questo corso e questi corsi vengono offerti sulla base esclusiva delle nostre risorse. Non c'è iscrizione, ha un numero di iscritti limitato, gioco forza, 20 persone, che vengono però da tutte le scuole di specializzazione, perché è dedicato ai giovani e quindi agli specializzanti, ed è totalmente gratuito. Anzi, abbiamo anche il piacere di ospitarli in queste due giornate. La progettualità di cui mi chiedeva ha come obiettivo quello di riuscire, se ce la faremo, a istituzionalizzare questo tipo di iniziativa, rendendola stabile in questa regione. Penso che possiamo dire con molto piacere che è già una sorta di riferimento sul campo nazionale, è riconosciuto dalla Società Italiana di Neurochirurgia e quindi ogni anno siamo praticamente costretti a selezionare le richieste perché sono ben più di quelle che noi siamo in grado di offrire. Se riusciamo in questo tipo di iniziativa, l'obiettivo è mantenere quindi una sede permanente di una sorta di accademia che anche per il futuro possa essere sviluppata, gestita da chi poi ci seguirà, indipendentemente dalle persone che in quel momento hanno poi il compito di curarla. Questo è l'obiettivo. Protagonista l'università, l'azienda ospedale Riuniti e questo territorio in sostanza? Sì, direi che è proprio così. L'iniziativa è naturalmente gestita da noi ma nell'ambito di due grosse istituzioni. Questa è una regione che ha un'università medica importante, ha un'azienda ospedaliera importante, regionale, che ha a mio giudizio anche lo scopo e in qualche modo abbiamo tutti anche il dovere di promuovere da un lato qualunque tipo di formazione possa essere utile all'educazione dei giovani ma anche dimostrare quello che di buono si riesce a fare. Anche con delle risorse che in questo momento sono per tutti limitate, con un po' di impegno, con un po' di serietà penso che si riesca grado per grado a ottenere dei risultati che sono sicuramente apprezzabili. L'azienda Ospedali Riuniti di Ancona e l'Università Politecnica delle Marche si confermano poi l'ospedaliere universitario di riferimento e di eccellenza in ambito nazionale. Da qui l'arrivo nei due giorni d'orici dei migliori specialisti di neurochirurgia in Italia in occasione di questo quinto corso dedicato ad un tema complesso ancora da approfondire. A parlarcene il dottor Mauro Dobran, direttore del corso, medico chirurgo specialista in neurochirurgia. Sì, noi abbiamo pensato i due giorni in questo modo che poi è praticamente quello che facciamo tutti gli anni. La prima giornata c'è una parte teorica, la mattina in cui a grosse linee venne spiegato l'argomento e seguito il pomeriggio da un intervento chirurgico in diretta in sala operatoria. Noi abbiamo un sistema per cui dalla sala operatoria le immagini vengono inviate nell'aula dove ci sono i discenti e c'è una interattività totale tra noi, tra l'operatore e i discenti per cui loro possono fare domande, commenti e l'operatore in sala operatoria mentre fa l'intervento chirurgico può rispondere alle domande, fare osservazioni e ovviamente insegnare. Questo è il primo giorno, il secondo giorno che oggi, la mattina, c'è una discussione sui casi operati il giorno precedente e poi ovviamente viene approfondito ulteriormente l'argomento. Quest'anno è un argomento abbastanza controverso perché si parla di instabilità vertebrale che alla fine è un argomento fumoso della chirurgia spinale, però è un argomento che è sempre più di moda soprattutto perché è riconosciuto ovviamente come una delle cause del mal di schiena che è una patologia frequentissima come sappiamo. Quest'anno sono 25 ragazzi specializzanti dei primi tre anni delle scuole di neurochirurgia italiane, vengono da diverse città italiane e diciamo che per il momento sono molto entusiasti dell'iniziativa. I relatori invece come vengono scelti? Chi c'è quest'anno? Quali sono anche le tematiche innovative che sono state affrontate? I relatori vengono scelti come ha detto prima il professore in base sia anche alle nostre amicizie e conoscenze ma vengono scelti in base alle competenze quindi sono relatori che a livello nazionale ma anche europeo sono di altissimo livello e specialisti soprattutto nella patologia che trattiamo. Quest'anno ad esempio abbiamo chiamato il professor Delfini che è stato presidente della società italiana di neurochirurgia nel bienio scorso, il dottor Franco Guida che è coordinatore del gruppo di chirurgia spinale della società, il professor Mario Meglio che è un chirurgo spinale dell'Università di Verona. Quindi abbiamo delle, sono amici ma sono comunque persone molto competenti che proprio si occupano di queste tematiche specifiche e ci aiutano nello svolgimento del corso. Per chi partecipa è un'occasione preziosa direi? È un'occasione unica perché in Italia corsi di questo tipo non ce ne sono di fatto quindi questa è un po' una cosa unica che noi portiamo avanti ormai da cinque anni. Tra gli obiettivi del corso medico scientifico che si è tenuto ad Ancona anche quello di inquadrare il fenomeno patologico valutando nei trattamenti necessari compreso quello chirurgico e comunque quello di poter offrire agli specializzanti di un'occasione formativa esaustiva ma nello stesso tempo anche diretta e pratica sugli argomenti scelti. Capace di stimolare l'interesse dei partecipanti resta il fine di questi appuntamenti e degli organizzatori. Sicuramente a mio giudizio la cosa più importante di questo corso è la possibilità di interfacciarsi senza nessun timore reverenziale, senza nessun tipo di problema nella massima, come posso dire, ci troviamo assolutamente a nostro agio con primari da alcuni dei centri più importanti d'Italia che ci permettono di apprendere costantemente, questo succede ogni anno, nozioni riguardo alla patologia vertebrale nei suoi aspetti più diversi. Quindi è veramente una fonte di apprendimento importante per noi. Sì, sì, la peculiarità di questo corso è appunto la modalità informale con cui si svolge che ci permette di poter interagire fra noi stessi e con i professori che si rappresentano i massimi esperti in Italia di questo tipo di patologia e ciò ci permette di chiarire dubbi e di approfondire tematiche molto importanti che riguardano poi l'attività clinica e chirurgica di tutti i giorni. Quindi è, diciamo, un'ottima occasione per imparare e per conoscere anche altri specialisti e confrontarsi con altre esperienze di altre regioni, di grossi centri italiani. Nel vostro futuro professionale cosa c'è? Nel nostro futuro professionale speriamo ci siano tante belle cose, nel senso che siamo addirittura d'arrivo e vedremo un attimo dove andare, perché ancora qui non si sa bene diciamo di preciso. Sì, attualmente la situazione italiana diciamo non è che ci garantisce assolutamente la certezza di finito il percorso di formazione che se consideriamo anche gli anni di medicina è un percorso che dura 12 anni, quindi non pochi, non ci dà la possibilità di avere garanzia di un lavoro, non chiedo neanche a tempo indeterminato, ma anche di minore valore e per di più ancora inferiore la possibilità di ottenere una continuità lavorativa nel centro che ti ha formato. Vediamo, vediamo, adesso finiremo il percorso di formazione, valuteremo l'eventuale opportunità di opzioni all'estero, presso centri di eccellenza dove poter magari migliorare nel campo di principale interesse neurochirurgico oppure nel centro italiano che ci può garantire le migliori possibilità. L'appuntamento con le eccellenze della neurochirurgia in quella che nell'ottica dovrebbe diventare una vera e propria accademia con sede nelle Marche è per questa estate, dove per la prima volta in tre giorni, 8, 9 e 10 luglio, all'hotel Monte Conero arriveranno i migliori specialisti da tutto il mondo per trattare temi legati alla neurooncologia e alla neurotraumatologia con un approccio ancora più spinto ed efficace, dove ai due giorni di teoria si aggiungerà una mattinata di pratica per dirla all'americana sul how do it, per vedere cioè come si fa una cosa direttamente da chi solitamente la fa in ambito internazionale.